sono emiliano gentilini presidente cofondatore di green code srl come alcuni di voi sapranno ogni giorno ogni anno nel mondo il 50 per cento della frutta e della verdura prodotte vengono sprecate e gettate questo è un disastro ambientale infatti questo spreco ha una produzione di 3,3 miliardi di tonnellate di inquinanti di gas serva che vengono rilasciate nell'atmosfera ogni anno e ha un valore economico superiore al pil della svizzera 760 miliardi di dollari per questo motivo noi abbiamo sviluppato demetra un fitofarmaco naturale capace di contrastare gli sprechi alimentari allungando la shelf life della frutta demetra è naturale perché crediamo che gran parte delle tecnologie di cui abbiamo bisogno oggi siano ritrovabili rinvenibili in natura quello che abbiamo fatto è stato osservare apprendere da applicare con risultati incredibili ha proprietà antimicrobiche antifungine molto importanti e funge anche da antiossidanti per questo motivo è capace di allungare la shelf life della frutta fino al 50 per cento per alcune cultivar e abbattere l'insorgenza delle marce scienze fino al 99 per cento per alcuni tipi di frutta è uno strumento essenziale per la lotta allo spreco alimentare se venisse integrata nei sistemi attualmente in uso di stoccaggio parliamo di frigoriferi industriali permetterebbe di aumentare significativamente le temperature minime per avere frutta di qualità e commercializzabile e permetterebbe di abbattere del 30 per cento i consumi elettrici e del 50 per cento le emissioni di co2 connesse agli stoccaggi per questo motivo siamo convinti che demetra sia un ottimo strumento per combattere lo spreco alimentare su tutta la filiera noi di green code siamo convinti che gran parte delle tecnologie di cui oggi abbiamo bisogno siano già disponibili natura quello che dobbiamo fare essere abbastanza audaci da individuarle studiarle ed applicarle per questo motivo siamo sicuri che il futuro sia già tra noi green code the future among us